E benvenuti in questo nuovo video, oggi nuova rubrica basata sulle serie tv Partiamo con questo documentario Il truffatore di Tinder o The Tinder Swindler in inglese Attirava donne online per derubarle di milioni di dollari Fingendosi un ricco magnate dei diamanti, amante del jet stat Ora alcune vittime vogliono vendicarsi Allora, è un documentario che dura due ore circa Bellino, montato bene, bella regia, tutto quanto Molto bello, però due ore sono tante Quindi proverò a riassumervelo in dieci minuti o anche meno Andiamo direttamente all'articolo che hanno fatto su di lui nel 2019 Questo è il tizio in questione, Simon Leviev Che in realtà ha un nome fittizio, si chiama in un altro modo Lui si iscriveva su Tinder, faceva vedere i jet Faceva vedere che aveva i soldi, che non era sua chiaramente E le donne stavano con lui per i soldi chiaramente Le faceva innamorare, diceva ci sposiamo, abbiamo un futuro insieme Dopo qualche mese lui diceva ah mi hanno pestato di botte E chiedeva dei soldi indietro Chiedeva, chiedeva siccome era stato pestato di botte Di farsi prestare dalle sue vittime Da quelle che potevano diventare le future mogli dei soldi Quindi queste donne qui andavano a indebitarsi con American Express E altre carte di credito, altri istituti che emettevano crediti E in tal modo lui riceveva questo denaro Qui potete vedere, faceva vedere questo bodyguard alto 2 metri 150 kg di muscoli che era stato pestato Mandava il whatsapp alle sue vittime, alle sue amanti Le faceva spaventare, diceva ah guarda adesso ci sono i miei nemici Che ci hanno aggredito, ci hanno tolto tutto Ho bisogno di denaro non tracciabile Fai la carta a tuo nome, sei tu quella indebitata Mi giri i soldi e così via Lui lo faceva con tantissime vittime E sono venute fuori in questo documentario a parlare Però sicuramente si parla di uno schema Ponzi Perché lui prendeva da una vittima 20.000 20.000 dollari Li utilizzava in tre giorni per fare la bella vita ad un'altra Fingendosi ricco E il gioco continuava un po' all'infinito Lui fa vedere che poi dopo un mese o due mesi Avrebbe restituito il tutto Ma erano robe false Quindi una vittima alla fine va a indagare un po' meglio su questo tizio qui E si scopre che nel 2015 Aveva già messo in piedi questo schema per truffare la gente E da questo è nato questo sito qui che sto leggendo e sto riportando Si recano a vedere dove stava in Israele Prima di diventare un truffatore Qui un'altra vittima Stesso identico schema Le fa innamorare qui Anzi diventano amici con questa Non sono amanti E dopo un tot sempre gli chiede del denaro Poi dopo che lei ha dato a lui del denaro Lui per ripagarla di questo debito Le dà un Audemars Piguet Se è sempre questo qui Non lo so se sia questo qui Che è ovviamente tarocco Quindi non vale niente Questo gli ha dato tipo 20.000 dollari E poi ovviamente Quando lei scopre tutto quanto E arrivano al sodo per dire Ah guarda tu mi hai truffato Lui è sempre minaccioso Perché è chiaro che è una persona senza scrupoli Una persona pericolosa E le dice Ad ogni azione c'è una reazione Cioè se tu mi denunci Io ti ammazzo Cosa del genere Non è sempre così esplicito Poi vabbè Questo articolo termina qui Però la storia è che C'è un'altra fidanzata Che gli dice Visto che tu hai tutti questi Bellissimi vestiti firmati Facciamo così Tu me li dai Io li vado a vendere su internet Ci ricaviamo qualcosa Tu ti rifai un po' di soldi E siamo salvi E lei aveva capito che questo era un truffatore E lo sta truffando a sua volta Addirittura c'è una fase Di questa vicenda finale In cui lui si vuole recare in una clinica E vuole farsi proprio Cambiare i connotati da un chirurgo Il chirurgo gli dice No è impossibile Perché questa operazione Io lo so che tu la stai facendo Perché stai imbrogliando qualcosa È assolutamente legale fare tutti questi Marchingegni qui Al tuo volto O meglio Questo è come l'ha venduto La tizia Che poi Tore Cioè io non so se sia vero Quello che dicono Interviste di questo documentario qui E il fatto sta che Alla fine Questo qui Non cambia connotati E poi c'è Uno screzzo Un tafferuglio Con questa tizia A cui Sempre dice Io voglio Farti mia moglie Glielo scrive In una lettera Mentre lei È tipo Intimata Ad aprire la lettera Solo mentre si trova su un volo Cioè non glielo dice Neanche di persona Faccia a faccia Fatto sta che Si arriva al riassunto In cui più avanti Su whatsapp Lei invia un messaggio Vede che c'è solo una spunta Quindi capisce che lui È in modalità aereo Che non sta ricevendo I messaggi Al tempo stesso Lui le aveva detto Che da Praga Stava volando ad Atene Quindi Contatta la polizia di Atene Gli dice Questo tizio qua Sta volando ad Atene Tuo nome nuovo Tarocco Perché Questo tizio Le aveva pure Fatto vedere Una nuova carta di credito Con su Il nuovo nome Quindi Arrestatelo Lo arrestano A quel punto Viene estradato In Israele Gli danno 15 mesi Però è fuori Dopo 5 Le varie vittime Sono ancora Straindebitate Tipo di mezzo milione Queste tre E tutte le altre Che non sono venute Fuori a galla Non si sa Lui ovviamente Continua ad avere Il profilo Instagram Mi sembra sia questo qui Simonleviev.of Però ne sono nati Come funghi Di questi profili qui E questo qui Mi sembra sia vero Perché vedendo le storie Non rimanda ai post Ma fa veramente Delle storie nuove E prima era salito Da 100.000 A 135.000 E ora dice Che gliel'hanno hackerato Comunque Alla fine Dopo tutti i milioni Che ha rubato Si partono solo 5 mesi Il bodyguard E l'altro socio Zero E quindi La giustizia Seconda vicenda Legata alle truffe Di giornata 4 miliardi Mancati in bitcoin Una rapper Il giornale Forbes E il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti Cos'hanno in comune Parla dell'hack subito da Bitfinex nel 2016 E questa storia ha avuto epilogo 9 febbraio Quindi ieri Allora c'è stato questo hack nel 2016 Il prezzo del bitcoin è sceso del 40% In quel periodo lì Proprio in virtù di questo hack Sono stati rubati 120.000 bitcoin Che al tempo valevano solo 72 milioni Adesso però valgono 3 miliardi e 6 Non si sa come è avvenuto questo hack Dopo che è avvenuto comunque Poi Bitfinex ha emesso un token Non questo Leo Ma c'era un altro tipo di token Questo Leo è avvenuto dopo comunque Per rimborsare un po' questi manchi di bitcoin Ed era palese che mancassero tutti questi soldi E si dice che da Bitfinex sia nato Tether E Tether comunque in questo momento Dicono che abbia alimentato la crescita dei prezzi Essendo Bitfinex ed essendo Tether Non backed by dollari reali Nel 2020 offrono una ricompensa di 400 milioni A chi trova un miliardo e tre di bitcoin Il 31 gennaio c'è sempre questo bot Che notava questi movimenti sospetti 385 milioni, 385, 385, 377 milioni Quindi non tanto furbi Perché adesso li stavano vedendo Questi movimenti Erano disponibili a tutti quanti Oggi, cioè ieri, cioè otto ore fa Il dipartimento di giustizia ha annunciato Che questi bitcoin, 120.000 bitcoin Sono stati recuperati Qui tutto il collegamento E in pratica si tratta di queste persone qui Le chiavi private dicono che erano salvate Su un cloud in Liekenstein Tutto in chiaro Ovviamente erano molti miliardari Solo su carta Non potevano spendere tutto Però utilizzavano sempre delle gift card Cioè utilizzavano i bitcoin Per comprare dei buoni regalo E poi spendevano i buoni E compravano i beni reali La tizia Perché sono marito e moglie Faceva la rapper Abbastanza scarso come livello Il tizio invece Ha fondato questa compagnia qui MixRank Ha fatto finanziamenti da questo incubatore Molto famoso Y Combinator Che si occupava di marketing E se è o roba del genere E poi chiaramente Il token Leo Che è quello Tra virgolette Che avrebbe ricompensato Gli utenti Che avevano subito i furti È salito Perché è collegato A questo ritrovamento A questa possibile ricompensa E quindi La speculazione è partita E dicono Che adesso è top 25 Crypto Questo tizio dice Che questi 4 miliardi Potrebbero essere conferiti Dal dipartimento di giustizia Bitfinex Quindi Bitfinex Avrebbe 4 miliardi in più Che verrebbero venduti Però Cioè Secondo me non fa tanta differenza Nel senso Il bitcoin fa 200 miliardi Di volume giornaliero 4 miliardi Sono pochissimo Perso qualcosina Dopo essere comunque Sopra del 12% Per la settimana Cioè ci sta In pratica La lezione Da portare a casa Che nulla di bitcoin È veramente anonimo È tutto tracciato E provare a truffare Per questi imposti Soprattutto Non pagherà Ultima vicenda Che secondo me Può interessarvi Almeno per me È stata interessante 30 gennaio 2022 ApeDAO Ovvero La Decentralized Autonomous Organization Delle scimmie L'associazione Delle scimmie Chiamiamola così Un'associazione Formata da Questo collezionista Di NFT Grazie alla quale Venivano acquistate Le Bored Apes E Crypto Punk Female Lo scopo Dell'associazione Era diventare I più grossi Detentori Di Bored Apes Yacht Club Che sarebbe Una delle collezioni Più ricche Di NFT Qui per chi Non sapesse Siamo a 92 Ethereum Di Flor Un Ethereum Sono 3.000 dollari Quindi 270.000 dollari Un NFT Di questo tipo qui Ritornando a questo thread Questa associazione Questo DAO Metteva un token Con ticker Aped Aped Che dava diritto di voto Facendo questi calcoli Al 30 gennaio Si scopriva Che facendo Un calcolo Sul valore Degli NFT Di Bored Apes Yacht Club Detenuti da questo DAO Si arrivava Ad un certo valore Secondo questi calcoli Potevano benissimo Scambiare Gli Aped A 16 dollari Almeno Alcuni sostenevano Anche a 20 dollari Considerando Il metodo Delle Highest Price Trade Ovvero Prendi il floor Il prezzo minimo Dell'NFT Con il tratto La caratteristica Più rara E fai questo Calcolo qui E la considerazione Questa qui Gli sconti erano 44% 56% Quindi automaticamente Devono andare A raddoppiare A scambiare al doppio Perché ora erano a sconto Della metà A sconto del 50% Quando partirono In agosto 2021 Il floor Era 20 Ethereum Adesso È 100 In realtà adesso siamo Come ho detto prima 90 92 Quindi già per quello Avrebbero fatto 5 per Ma non solo I token Sono scesi da 10 E missione Sono scesi a 8 Quindi molti detentori Di questi token Molti facenti parte Di questa associazione Si sono arrabbiati Per la situazione Quindi viene proposta Una professionalizzazione Di questo DAO Ovvero Prendere un manager Un dirigente A governare il tutto Alla faccia Della Decentralized Costo di 350 Barra 500 Mila dollari Annuali Allora Hanno proposto Di liquidare Tutti questi beni Perché comunque Il valore del patrimonio Era superiore Al valore implicito Dei token Quindi liquidando Tutti questi NFT Di Bored Ape Avrebbero guadagnato Il doppio E poi avrebbero Distribuito Gli incassi Il cash Gli Ethereum Ai vari detentori Di token E quindi A questi membri Di questa associazione Però Il fondatore Dell'AO Tutti di voi Possono fare Due per Istantaneamente Allora Blocchiamo tutto Il diritto di voto Per molti di voi E prendo io La decisione E lui ha detto Sai che c'è Adesso aspettiamo 30 gennaio Diceva Avrebbero dovuto Votare Hanno detto Si va bene Liquidiamo Lui sosteneva Che c'era Questo wallet Con 4 firme E ognuno Di questi 4 firmatari Doveva appunto Votare per la liquidazione E 3 Non avevano ancora votato Quindi montava un po' il caso Per dire Guardate che Anche se è un DAO Questi qui Fanno quello che vogliono loro Even if the liquidation vote passes There is always the possibility That the multisig signers Do not proceed with the actions E questa è un po' La limitazione del web 3 Poi niente Finisce così Alla fine Stanno liquidando Vediamo Come andrà a finire Spero che questo video Vi abbia fornito Qualche spunto di riflessione Qualche idea Non per attaccare Ma per difendersi Da questi truffatori Piccola considerazione finale Visto che comunque Adesso siamo in pochissimi Ad arrivare a fine video Non so se ho fatto bene A aggiungere temi Al mio canale Visto che comunque Essendo molto piccolo Io so che Si va avanti Grazie agli spettatori Di ritorno E andare A provare A raccogliere Nuovi seguaci Trattando dei temi Che non ci azzeccano molto Con il tuo stile originale In un futuro Può essere nocivo Perché poi Non andrai Ad avere quella Massa critica costante Che guarda i tuoi video Mentre uno youtuber Già grosso consolidato Che fa 100.000 followers Anche se parla Del nulla Cosmico E non sa niente Di quell'argomento lì 10 15.000 20.000 Views Le fa Spero non sia stata Una perdita di tempo Per me Ecco Grazie a tutti quelli Che sono arrivati Fino a questo punto qui Ci sentiamo presto Un abbraccio virtuale Ciao ciao Grazie a tutti